Come ogni estate è tornato l'incubo dell'abbandono degli animali, un fenomeno che purtroppo interessa anche il territorio provinciale aretino. Quest'anno sono entrati una cinquantena di cani in più, in canile l'incremento è chiaramente da maggio-giugno. Invece di gatti, solo adesso e ancora l'estate non è finita, abbiamo preso già più di 100 gatti e tra cui solo 10-15 erano adulti e il restante erano tutti gattini piccoli abbandonati. Servirebbe tanto di più campagne di sterilizzazione. Oltre ad essere un atto crudele, l'abbandono degli amici a quattro zampe rientra anche tra i reati contro gli animali perseguibile penalmente. La prima cosa da fare per contrastare questo fenomeno è quello di avvisare le forze dell'ordine o volontari quando c'è il sospetto che ci si trovi di fronte ad un animale lasciato a se stesso. Altrettanto è importante segnalare la presenza di animali vaganti in caso di cani o gatti abbandonati. Quindi innanzitutto la prima cosa è appurrare che sia un abbandono, chiedendo, sentendo. Dopodiché noi nel comune di Arezzo siamo reperibili 24 su 24. Ma non solo cani e gatti, tra gli ospiti del canile di Arezzo anche alcuni coniglietti che adesso cercano una famiglia. Purtroppo vengono presi questi animali, vengono sottovalutati, che comunque si hanno tanto bisogno e poi vengono liberati pensando a un coniglio selvatico. No, un coniglio liberato, un coniglio nano che ha vissuto in cattività tutta la vita, senza cure parentali, non ha possibilità di sopravvivenza in natura.